Domani sull'altipiano della Limina in Mammola, nella ricorrenza della festa di San Nicodemo, sarà inaugurato il Santuario del Santo, ristrutturato grazie ad un finanziamento di 115.000 euro dell'Ente Parco Nazionale della Spromonte. Saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Locri Geracemo, signor Francesco Liva, il Presidente dell'Ente Parco, dottor Giuseppe Bombino, il Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari, don Alfredo Valenti, padre Ernesto Monteleone, il Sindaco di Mammola, l'architetto Stefano Raschellà, il Consigliere Comunale, dottor Pino Agostino e l'architetto Giuseppe Sansotta, che ha progettato e diretto i lavori di restauro. Il Santuario di San Nicodemo Abate, che ricade nel cuore del Parco Nazionale della Spromonte, sorge sui resti di un'antica chiesetta costruita dal monaco italo greco Nicodemo, poi canonizzato e dai suoi discepoli intorno all'anno 1000. Il monastero sul Monte Kellerana continuò ad essere retto dai monaci per diversi secoli fino al 1501, quando si trasferirono nella grancia di San Biagio presso Mammola, portando con sé le reliquie del santo e conservandone il culto. Mammola, che è cresciuta all'ombra del suo patrono e protettore, gli esprime la sua riconoscenza con tre feste all'anno. La prima domenica di settembre, che ricorda la traslazione delle sue reliquie dal monastero alla grancia di San Biagio. Il 12 marzo, giorno della sua morte, il 12 maggio, giorno della sua nascita, la cui festa si celebra sul Monte Cellerano. Questi lavori, attissi da tempo dalla comunità mammolese e da numerosi devoti del santo, vogliono essere testimonianza ulteriore di un profondo attaccamento e di un sano legame che dopo secoli è ancora presente tra Nicodemo e i suoi figli mammolesi.